Musica Amiche e amici di Volonvret, buongiorno, ci troviamo alla scuola Holden per il convegno annuale di Aria, Aria di Autonomia con Eliana Testoni, assistente sociale, che lavora presso Casa OTS e voglio dirci di cosa si occupa Casa OTS e come a me siete qua oggi soprattutto Allora ciao a tutti, collaboro con l'equipe educativa di Casa OTS Casa OTS come si può vedere dal nome è una casa che nasce per accogliere ed aiutare ragazzi e famiglie che affrontano la malattia e la disabilità su ogni sfaccettatura che esse possono avere le due parole chiave che mi vengono in mente per descrivervi Casa OTS sono accoglienza e appunto la concezione di casa Casa OTS vuole essere di per sé proprio una casa per chi una casa ce l'ha ma vuole un posto dove poter essere se stesso condividere le proprie capacità e le proprie difficoltà con gli altri vuole essere un posto inclusivo infatti abbiamo parte tantissimi progetti ma molti laboratori che tutti i giorni abbiamo che sono proprio volti all'inclusione e all'integrazione tra ragazzi con diverse disabilità e che affrontano diverse difficoltà nei loro momenti più critici E come mai oggi qua appunto? Allora oggi siamo qui perché vi portiamo un cortometraggio che è stato fatto in collaborazione con il museo del cinema e la cooperativa Mirafiori che nasce da un laboratorio di cinema che facciamo a Casa OTS con un gruppo di adolescenti nasce da un percorso di ponte appunto si chiama un progetto un ponte tra ospedale e territorio per quei ragazzi che affrontano un passaggio tra il day hospital della neuropsichiatria e poi tornano alla vita di tutti i giorni quindi io credo che il compito dell'educatore stamattina abbiamo parlato di comunità educante sia appunto quello di riuscire a mediare e di contribuire in questo percorso di autonomia e di passaggio perché credo che appunto ognuno di noi abbia delle capacità e che i ragazzi non vadano visti per le loro mancanze non bisogna solo vedere quello che manca ma bisogna concentrarsi e vedere quello che c'è Eliana grazie mille e buon lavoro ciao ragazzi alla prossima Ciao 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 Ciao